Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. È il dicembre del 2012, ci troviamo in Liguria, a Lerici, un paese sul mare in provincia di La Spezia, la maggiore metaturistica della riviera di Levante, rinomata per i suoi scorci incantevoli e le numerose spiagge. Qui abitano la signora Sandra Podestà e i suoi figli, Laura e Andrea Calevo. Dopo la morte del padre, avvenuta una decina di anni prima, Andrea ha preso in mano le eredini dell'azienda di famiglia. I Calevo sono degli imprenditori molto conosciuti nella zona, principalmente nell'ambiente di Sarzana. Hanno un'azienda che distribuisce materiale edile, dunque sono un punto di riferimento per tanti piccoli costruttori e operai di questo comune ed intorni. Tutti li considerano brave persone e onesti lavoratori. Oltre alla notorietà, come immaginabile, la famiglia gode anche di un certo benessere economico. Insomma, la loro è una vita serena fino a quando qualcuno decide di sconvolgerla il 16 dicembre del 2012. Il giorno dopo, lunedì 17 dicembre alle 10 di mattina, il capo della squadra mobile di Genova, Fausto Lamparelli, giunge insieme ad altri agenti nella villa della famiglia Calevo per indagare su un fatto avvenuto la sera precedente. Facciamo quindi un balzo indietro nel tempo fino ad arrivare alle 20 e 40 della domenica, quando la signora Sandra Potestà sta aspettando che il figlio più giovane, il trentenne Andrea, rientri a casa. Scenare insieme di domenica sera è una loro tipica abitudine. Nemmeno Laura, la figlia più grande, è in casa. Quando Sandra sente bussare alla porta finestra della villa, sa che finalmente è arrivato Andrea. È certa che sia lui, perché quando si avvicina sente la voce del figlio che le dice mamma aprimi. Poi sente anche due parole che la mettono in allarme, ossia stai calma. Quando la donna apre quella porta viene proiettata in un incubo tremendo. Qualcuno spinge Andrea all'interno della casa. Insieme a lui entrano quattro malviventi dall'aspetto giovanile ma con i volti coperti dei passamontagna. La signora Sandra riesce a vedere soltanto i loro occhi. Andrea fa appena in tempo a dire mamma stai tranquilla non succede nulla che i quattro delinquenti li prendono di peso, li portano in cucina e li legano con del nastro isolante. Due degli intrusi rimangono lì a sorvegliarli. Estraggono anche le pistole e le puntano verso le teste di madre e figlio. Gli altri due si recano nelle varie stanze della villa, sottraggono circa 5.000 euro e alcuni monili in oro. Le due vittime stanno vivendo un'esperienza terribile, sono presenti durante una rappina avvenuta in casa propria ma purtroppo le loro sventure non si limiteranno all'irruzione nella villa e al conseguente furto. Presto infatti i malviventi optano per un cambio di programma. Slegano soltanto Andrea, poi uno di loro dice alla mamma non fare nulla che poi tornerà a casa. Andrea scompare con i rapinatori e la signora Sandra è sconvolta. Sa che lo scenario in cui è immersa ora è diventato ancora più oscuro perché forse suo figlio è stato sequestrato. Travolta dalla paura riesce a liberarsi dal nastro adesivo che le tratteneva i polsi e avverte un vicino dell'accaduto. I due informano l'arma dei carabinieri che giunge immediatamente sul posto. Vengono eseguite delle battute nella zona e nei posti di blocco ma non si riesce a individuare il giovane imprenditore. I carabinieri accertano però che una delle autovetture di Andrea Calevo, una Audi A1, è sparita. Gli inquirenti si sono già ritrovate dinanzi a un copione del genere. Spesso i rapinatori portano via con loro un ostaggio nel tentativo di impedire ai membri della sua famiglia di avvertire le forze dell'ordine. Quanto meno così facendo ottengono un vantaggio, quello di rallentare il loro intervento. Il furto della macchina è però un risvolto che fa riflettere gli inquirenti. È vero, nel bottino dei rapinatori non è insolito che rientrino anche le autovetture ma l'automobile in questione non ha un valore particolare. È un Audi A1 come tante. Stranisce che l'abbiano portata via. I carabinieri trascorrono tutta la notte cercando di individuare i criminali e alle 9 della mattina successiva rintracciano la macchina. L'Audi viene ritrovata sul greto del fiume Magra a Sarzana a circa 3 chilometri dall'abitazione dei Calevo. All'interno non c'è nessuno. Il veicolo viene recuperato affinché la polizia scientifica effettui i necessari rilievi ma la mancanza di notizie su Andrea che si sta protraendo da almeno 12 ore fa scattare l'allarme. Ecco perché alle 9 della mattina del 17 dicembre nonostante ci siano già i carabinieri a occuparsi di questo caso interviene anche la squadra mobile di Genova. È necessario avvalersi della competenza della direzione distrettuale antimafia che ora acquisisce la titolarità del fascicolo processuale. Non ci sono dubbi che da una rapina l'irruzione si è evoluta in un sequestro di persona. Quando il capo della squadra mobile di Genova arriva a casa dei Calevo trova i familiari di Andrea in uno stato di grande angoscia e ansia. In particolare nella villa sono riuniti la mamma del ragazzo Sandra, la sorella Laura, altri parenti, alcuni amici e i membri dell'arma dei carabinieri intervenuti subito dopo il fatto. Sandra è l'unica ad aver sentito la voce di uno dei sequestratori. Gli inquirenti quindi le chiedono più volte in che modo parlasse. Come vi ricordo l'uomo le aveva detto signora stia tranquilla suo figlio torna presto a casa. Sandra è sicurissima nell'affermare che quella frase l'ha pronunciata una persona straniera. Inoltre ha notato che gli intrusi erano molto agili ne descrive due in particolare sostenendo che fossero giovani e magri secondo lei avevano al massimo 30 anni. Intorno alle 11 arriva una telefonata sull'utenza fissa dell'abitazione che fortunatamente è già sottoposta intercettazione telefonica. Gli inquirenti riescono quindi ad ascoltare in diretta il contenuto della conversazione. A rispondere alla chiamata è un amico di famiglia. L'uomo dall'altro capo del telefono chiede della signora Sandra Podestà. Siccome la signora avverse in condizioni psicologiche delicate, a intervenire è la figlia Laura. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Chi è la signora Colevo? No, no, la Colevo non chi ne parla, sono così. Chi è la signora Colevo? Sì, ma che tu desidera? Sono il dottore Rampetti. Dottore? Rampetti. E c'è la figlia eventualmente qui? Sì, non posso stare a dire. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Telefonavo per la questione di suo fratello. Sì, guardi, è un momento che siamo un attimo presi e... Sì, va bene, volevo dire, non si preoccupi, preparate i soldi che poi ci facciamo sentire. Cosa? Preparare i soldi e non dire niente alla bolezia. Dopo questa telefonata i dubbi sono davvero finiti. Si tratta di un rapimento, a tutti gli effetti. Davanti a reati come questi per liberare l'ostaggio, le forze dell'ordine devono compiere una vera e propria corsa contro il tempo. I sequestratori dal canto loro non immaginano di aver condotto quella telefonata in presenza di carabinieri e polizia. Hanno invitato Laura a non dire niente alle forze dell'ordine, un'ipotesi che, converrete con me in questi casi, non è perseguibile. Gli inquirenti però notano un'anomalia rispetto all'agire tipico delle bande criminali che organizzano reati come questo. La telefonata è arrivata troppo presto. In che senso? Vi chiederete voi. Ebbene, perché di solito i malviventi aspettano di trovare una collocazione stabile dove tenere l'ostaggio. Inoltre, anche se sono passate 12 ore dalla scomparsa di Andrea, questo lasso di tempo non è ritenuto considerevole ai fini di ottenere un concreto vantaggio. I sequestratori di solito contattano i familiari dell'ostaggio più avanti per instillare il loro maggiore disperazione, per spingerli a collaborare anche se hanno già avvertito le forze dell'ordine. Infatti, i sistemi di collaborazione possono essere trasversali. Fausto Lamparelli, il capo della squadra mobile di Genova, spiega che avere a che fare con i sequestri di persone è molto complicato perché non ci si limita a indagare sull'identità degli autori di un delitto, ma l'investigazione ha il fine di salvare una vita, riportando a casa l'ostaggio. Lamparelli si sente improvvisamente catapultato nella stagione dei sequestri di persona che dominava lo scenario criminale dell'Italia tra gli anni 70 e gli anni 90. Facciamo riferimento a sequestri famosi, posti in essere da organizzazioni criminali stanziali in Calabria e in Sardegna. Da allora erano passati tanti anni ed era stata approvata una legge che aveva bloccato queste azioni criminali. Erano entrate in vigore nuove normative che aggravavano le pene e soprattutto era stata approvata la legge 82 del 1991, recante nuove misure in materia di sequestra di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Dunque si era prevista una maggiore tutela dei familiari degli ostaggi per impedire loro di scegliere di pagare il riscatto, diradando le forme di finanziamento delle attività criminali. L'indagine, come abbiamo visto, ha cambiato profilo ben presto. Non bisogna trovare una gang di rapinatori ma una banda di sequestratori, capire la loro provenienza e dove possano aver portato Andrea. Gli inquirenti hanno un'enorme responsabilità perché un piccolo errore può mandare in tilt i sequestratori e indurli a uccidere l'ostaggio. Gli indizi più importanti in questo momento sono due. Il primo è la conversazione telefonica, l'altro è il luogo in cui è stata rinvenuta l'autovettura. Analizzando questi elementi, gli inquirenti delineano l'eventuale percorso attraversato in auto dai sequestratori alla ricerca di videocamere e sistemi di sorveglianza che possano averli immortalati. La ricerca, per fortuna, si rivela utile. Sulla strada che porta verso il fiume Magra, circa due chilometri e mezzo dalla casa della famiglia Calevo e a circa un chilometro dal punto in cui l'Audi è stata abbandonata, una telecamera dotata di un sistema circuito chiuso appartenente a un deposito di abbigliamento, ha ripreso l'autovettura di Andrea che transitava intorno alle 21.34 del 16 dicembre. La macchina del ragazzo però è preceduta da un altro veicolo, un furgoncino di colore bianco che nel tragitto inverso la telecamera torna a fotografare. Questo significa che i criminali hanno portato l'autovettura di Andrea sulle sponde del fiume Magra per poi ripartire sul furgoncino. La qualità della telecamera purtroppo non consente di stabilirne il modello né la marca né la targa. Una domanda però sorge spontanea. Perché non far salire immediatamente l'ostagio sul furgone ma perdere tempo a prendere la sua macchina per poi abbandonarla sul greto del fiume? Secondo la teoria del team investigativo dietro questa scelta c'è una motivazione precisa. Gli uomini coinvolti erano troppi per occupare un solo veicolo, dunque rubare l'audi di Andrea faceva parte del piano, supposizione che però si rivelerà errata. In base all'ipotesi dei detective quella notte i malviventi subito dopo l'irruzione nella villa hanno portato Andrea Calevo in un luogo sicuro, poi solo dopo si sono disfatti della sua automobile abbandonandola sulle sponde del fiume Magra. Quella macchina era indubbiamente un problema per i sequestratori, gli inquirenti la stavano cercando quindi dovevano sbarazzarsene appena possibile. Analizzato questo elemento ora gli investigatori lavorano sulla telefonata che è arrivata la mattina del 17 dicembre durante la quale il rapitore chiedeva dei soldi alla famiglia Calevo. Il telefono come detto era già sotto controllo quindi da dove è partita questa chiamata? Attraverso la consultazione dei tabulati telefonici e le interaccettazioni che l'arma dei carabinieri ha avviato immediatamente viene individuato il punto di partenza della telefonata effettuata intorno alle 11 del mattino del 17 dicembre 2012. Si tratta di una cabina telefonica installata a Pisa in via Pietrasantina nel centro. Il team investigativo che ora si muove anche nella città toscana ottiene un dato molto importante. La telecamera del sistema di videosorveglianza di un bar riprende la cabina telefonica in questione e anche un furgoncino bianco delle medesime caratteristiche di quello immortalato a Sarzana. Il veicolo ha sostato per pochi minuti davanti alla cabina poi è ripartito. Non si può risalire né al modello del furgone né al numero di persone a bordo ma almeno gli inquirenti aggiungono altri tasselli al puzzle. Ora devono capire che furgone sia. Gli inquirenti studiano le immagini e chiedono l'intervento della polizia scientifica e del RIS cioè confrontano l'operato di due uffici diversi per verificare i punti di contatto tra le valutazioni. Giungono a questa conclusione. Quell'autovettura è un furgoncino vecchio di un modello francese o Renault o Peugeot quindi si recano a Milano presso la sede italiana di Peugeot dove consultano un tecnico esperto dei modelli delle autovetture. Il tecnico è assolutamente convinto che si tratti di un Peugeot Ranch un furgone costruito tra il 1996 e il 2000. Gli unici elementi che lo differenziano dal modello di serie sono un portapacchi che si trova a bordo e una specie di spoiler posto sul parabrezza che probabilmente serve a penetrare meglio il vento. A questo punto tramite Peugeot Italia ma anche con la collaborazione di Peugeot in Francia gli investigatori acquisiscono tutti i modelli di Peugeot Ranch immatricolati in quegli anni in Italia. Il passo successivo vuoi capire quanti ne circolano ancora, dove e chi sono i proprietari. Ma c'è un altro sviluppo importante. Il 20 dicembre una pattuglia dei carabinieri individua a Sarzana un furgone simile a quello che stanno cercando. Dopo aver avvertito la centrale operativa e una volta fornita la targa la pattuglia pedina il furgone e arriva in via del corso dove l'autovettura sosta per alcuni minuti. Dal furgone scende una persona che gli operatori identificano come un anziano di circa 70 anni. L'uomo si reca in un'abitazione lì vicina per pochi minuti poi risale sulla vettura. La pattuglia che ha individuato il veicolo si allontana per non testare i sospetti ma registra i dati del citofono su cui c'è scritto DESTRI. Il prossimo passo quindi è indagare sul nominativo DESTRI e sull'intestatario dell'autovettura pedinata che si chiama Davide Bandoni, un ragazzo nato nel 1987 con precedenti penali per rapina e aggressioni. Quanto al citofono questo viene ricollegato a Pierluigi DESTRI, un uomo conosciuto alla Spezia e a Sarzana in particolare. È un imprenditore edile che riporta piccoli precedenti per reati in materia finanziaria. Negli anni 60 Pierluigi DESTRI era stato condannato con sentenze definitive senza espiare neanche un giorno di carcere perché la pena gli era stata condonata con grazia presidenziale. Data la tipologia di attività svolta dalla famiglia Calevo, la polizia conclude che DESTRI potrebbe conoscere Andrea. Forse la sua ditta era un punto di riferimento per l'acquisto di merce ma c'è altro che preoccupa gli inquirenti. La figura di Pierluigi DESTRI era stata approfondita nel corso di alcune attività investigative svolte dalla polizia di La Spezia per indagare sulla scomparsa di un cittadino marocchino di nome Mohamed avvenuta nel 2009. Mohamed aveva rapporti di lavoro con Pierluigi ed era sparito senza lasciare tracce. Secondo la sua famiglia in particolare la moglie il giorno in cui è scomparso Mohamed aveva un appuntamento proprio con Pierluigi DESTRI. Dovevano incontrarsi davanti a una farmacia di Sarzana. Mohamed avrebbe accompagnato Pierluigi in Svizzera per ritirare del denaro. L'imprenditore ligure avrebbe così saldato i 9.000 euro di stipendi arretrati e liquidazioni dovuti al dipendente. DESTRI però aveva smentito questa versione sostenendo di avergli soltanto dato un passaggio alla stazione di La Spezia. Mohamed in ogni caso non viene mai ritrovato. Ancora oggi risulta come una persona scomparsa. Ma torniamo a parlare del caso di Andrea. Ora bisogna capire che legame esiste tra Pierluigi DESTRI e il proprietario del furgone ossia Davide Bandoni. Un legame piuttosto stretto direi perché Pierluigi è il nonno di Davide. Gli inquirenti hanno finalmente una pista ma è necessario approfondirla così passano all'analisi del traffico telefonico. Acquisite le utenze telefoniche di Pierluigi DESTRI questa pista si solidifica perché è il giorno della chiamata. Per la richiesta di riscatto il cellulare di DESTRI ha agganciato la cella di via Pietrasantina a Pisa in un orario compatibile con quello della telefonata ricevuta all'utenza fissa dei Calevo ossia intorno alle 11.30. Questo è un dato importantissimo perché ora gli inquirenti possono essere certi che il furgone bianco ripreso a Pisa è lo stesso che procedeva verso il fiume Magra la sera in cui i rapitori si sono sbarazzati della macchina di Andrea. Proprio tramite le celle telefoniche gli investigatori riescono a ricostruire anche l'intero percorso attraversato da Pierluigi DESTRI. Analizzando le telefonate che l'uomo ha effettuato la mattina del 17 dicembre individuano una forbice temporale che colloca la sua partenza da Sarzana intorno alle 10 e l'arrivo a Pisa alle 11.45. Una volta fatta la telefonata era poi tornato a Sarzana. Queste scoperte lasciano propendere per delle conclusioni molto probabili ma non sono sufficienti a inchiodare DESTRI. Dunque dopo aver raccolto tutti i dati la polizia cosa ha ipotizzato? Pierluigi DESTRI è il rapitore di Andrea oppure è un semplice telefonista? Gli inquirenti non si fanno travolgere da facili entusiasmi sono consapevoli che quell'uomo potrebbe essere anche solo un mitomane uno che non è davvero coinvolto nel rapimento ma pensa di aver trovato un modo per far soldi. Siccome la notizia del sequestro è nota anzi risalta sulle pagine dei quotidiani nazionali DESTRI potrebbe essersi finto il rapitore per ottenere i soldi del riscatto. Nel frattempo i telefoni di Pierluigi sono sotto intercettazione. Gli agenti ascoltano le sue conversazioni e si soffermano sulla sua voce. A seguito di una perizia fonica effettuata dalla polizia scientifica di Roma emerge che Pierluigi DESTRI è effettivamente colui che ha chiamato sul telefono fisso della famiglia Calevo. Ma mentre l'istinto suggerisce agli inquirenti di arrestarlo la ragione li raccomanda di mantenere un profilo basso per non innescare reazioni pericolose. L'obiettivo primario è sempre quello di riportare a casa sano e salvo Andrea la cui posizione è ancora sconosciuta agli investigatori. Inoltre molte organizzazioni criminali che operano un sequestro per sicurezza non forniscono i dettagli del piano a tutti i membri coinvolti. Dunque il telefonista potrebbe non avere idea né del luogo in cui si trova il sequestrato né dell'identità dei carcerieri. Ciononostante gli investigatori hanno una pista solida da approfondire. Devono continuare a studiare la figura di Pierluigi DESTRI e quella dell'intestatario della vettura ossia il nipote Davide Bandoni. Devono capire uno con chi si relazionano e due con chi hanno avuto a che fare avvalendosi ancora dell'analisi del traffico telefonico. Da questo emerge che Pierluigi DESTRI aveva intrattenuto frequenti contatti con alcune utenze cellulari in uso a giovani albanesi. Alcuni di questi abitano proprio in via del corso a Sarzana cioè nella strada in cui Pierluigi si era fermato e dove era stato rilevato il suo cognome sul citofono dell'edificio. Nei mesi precedenti quasi fino al lato del sequestro i contatti telefonici con questi quattro ragazzi di nome. Simon Haillage, Emiliano Sciota, il cugino Lorenc Sciota e Fabian Vila erano molto frequenti. Si contano circa 800 contatti poi a cavallo del sequestro questi si diradano oppure alcune utenze in uso ai giovani albanesi cessano di registrare traffico telefonico. Dopo il sequestro il traffico telefonico si azzera come a significare che non bisogna più parlare. Intorno alle 17 del 16 dicembre due utenze in uso a due dei cittadini albanesi monitorati dalla polizia impegnavano le celle posizionate nei pressi della villa di Calevo. Questo significa che avevano fatto un sopralluogo qualche ora prima del sequestro? Sicuramente la loro presenza non è casuale. Arriviamo al 21 dicembre quando gli inquirenti che controllano anche la corrispondenza intercettano una lettera indirizzata a Sandra Podestà presso il centro di smistamento postale di Genova. I rapitori sono emettenti la lettera è scritta in parte a mano e in parte a macchina. Nella parte scritta a mano si legge cara mamma ti scrivo questa mia dicendoti che sto bene non ti preoccupare ti prego soltanto di attenerti a tutto quello che ti dicono queste persone che io ho molta paura. Ti prego di pagare il riscatto senza dire niente alla stampa o alle forze dell'ordine. Ti prego poi ti saprò dire ti voglio bene Andrea. La perizia calligrafica accerta che a scrivere questa parte è stato davvero Andrea. La parte scritta macchina riporta invece. Eccellentissima signora Calevo sembra che stia esagerando con tutto questo casino con la polizia e i carabinieri e noi tutto ciò che fa nessuna paura. Si ricordi che dovrà fare tutto quello che diciamo noi altrimenti suo figlio verrà venduto da altre organizzazioni molto lontane. Nel giro di 15 giorni dovrà preparare 8 milioni di euro perché è stata molto cattiva. Tale somma verrà consegnata tramite un avvocato di fiducia che dirà suo figlio senza nessun coloranti ai soldi o soldi segnati e nessuna trappola. Capito? Per gli inquirenti non è possibile stabilire con precisione dove sia stata imbucata la lettera ma sicuramente quel centro di smistamento copre la provincia di Alessandria e la Liguria. È difficile anche accertare quando sia stata spedita ma la lettera resta una prova importante che dimostra che Andrea nel momento in cui la scritta era certamente ancora in vita. Riguardo alla parte battuta macchina vengono espressi con chiarezza la richiesta del denaro e il coinvolgimento di un avvocato scelto proprio da Andrea che procederà allo scambio. Tuttavia le indicazioni fornite sono particolarmente vaghe. Quasi sembrerebbe che una figura all'interno della famiglia Calevo o che ruota intorno a essa stia comunicando con i sequestratori all'insaputa degli inquirenti e sia quindi in possesso delle informazioni aggiuntive. È però vero che la famiglia Calevo ha sempre cooperato con la polizia inoltre né la madre né la sorella di Andrea appaiono come persone che potrebbero condurre una trattativa parallela. Ciò nonostante l'ipotesi non può essere esclusa quindi gli inquirenti stanno allerta nel tentativo di intercettare ogni minimo dettaglio. Bisogna però andare oltre le intercettazioni telefoniche e progredire ulteriormente con le indagini. Quel furgone bianco è ormai diventato un punto focale per le forze dell'ordine. Lo pedinano giorno e notte ed è spesso occupato da destri e dal nipote. Per evitare di dare nell'occhio hanno anche montato delle telecamere nella zona di via del corso frequentata da Simone Eilage, Emiliano e Loren in Sciota, Fabio Unvila, Pierluigi Destri e Davide Bandoni. Il passo successivo è tracciare le vie che percorrono abitualmente ma soprattutto definire la natura dei discorsi e dei ragionamenti che avvengono nella vettura. Questo passo è indubbiamente rischioso perché significa avvicinarsi al veicolo perennemente posteggiato sotto l'abitazione di Pierluigi Destri, aprirlo e posizionare all'interno una microspia e un gps. L'uomo inoltre frequenta un'abitazione in uso a una cittadina straniera che si trova al pieno terra sempre in via del corso. Il furgoncino in pratica è sempre nel campo visivo di Pierluigi che di certo non passa le giornate a controllarlo ma che può osservarlo semplicemente affacciandosi dalla finestra. Il delicato lavoro di accesso alla vettura viene affidato a Lorenzo Bonaccorsi, un poliziotto della squadra mobile di Genova. È lui ad assumersi un rischio non da poco perché anche un minimo errore può compromettere l'obiettivo dell'operazione ovvero riportare Andrea a casa, san e salvo. Il poliziotto per riuscire nella missione inizia ad allenarsi. I suoi colleghi recuperano un'auto simile al furgoncino all'interno di un garage della questura di Genova. Dentro la vettura Lorenzo in un paio di giorni ci entra circa 100 volte col fine di velocizzare i tempi. Mentre il poliziotto accede nel furgone viene cronometrato dai colleghi per definire la tempistica utile per l'intervento. Alla fine Lorenzo riesce a impiegare scarsi due minuti per completare l'operazione, cioè aprire l'auto, installare microspie e gps, bonificare e chiudere il furgone. È l'alba del 25 dicembre, il giorno di Natale. È quello scelto per effettuare l'operazione. I colleghi di Lorenzo stanno coprendo tutta la zona per tutelare il giovane poliziotto. Bonaccorsi quindi tiene d'occhio il furgone e vede Pierluigi Destri entrare in casa. È il momento di agire. Si avvicina al furgone, lo apre, piazza la microspia e il gps, controlla che tutto sia andato secondo i piani, esce e si avvicina il collega Antonello. L'uomo in quel momento sta coordinando le operazioni della squadra operativa su strada. Prende Lorenzo sotto braccio e camminano per 50 metri. Antonello è teso, gli chiede subito se abbia avuto problemi perché Lorenzo è entrato nel furgone e ne è uscito come un fulmine. Bonaccorsi lo guarda e lo rassicura. Andiamo via che ho fatto tutto, dice. Lorenzo si era allenato per coprire al massimo due minuti ma alla fine ha impiegato molto meno tempo, circa un minuto. Ora grazie a lui gli inquirenti hanno occhi e orecchie dentro quel furgone. Gli occhi sono rappresentati dal gps che ne rivela esattamente gli spostamenti, mentre le orecchie si configurano nel microfono che registra tutto ciò che viene detto nell'abitacolo. I media stanno seguendo il caso con grande interesse. Come detto è il giorno di Natale e Andrea manca da casa da nove giorni. Il giorno dopo, il 26 dicembre, la sorella di Andrea esce dalla villa circondata dai giornalisti e rilascia alcune dichiarazioni. Laura fa un appello televisivo con cui chiede ai rapitori la prova dell'esistenza in vita di suo fratello e le sue dichiarazioni. Si muovono qualcosa. La banda è destabilizzata perché credeva che la lettera spedita a Sandra avesse già dato prova dell'esistenza in vita di Andrea. In realtà, come detto, la lettera è stata sequestrata dalla polizia e ora i rapitori intuiscono che non è mai arrivata ai familiari. Questo è preoccupante, significa che neanche la richiesta di riscatto è giunta a destinazione. Gli inquirenti nel frattempo si stanno avvalendo della microspia posizionata del furgoncino per registrare dialoghi molto importanti. Già dalla mattina del 27 dicembre all'interno della vettura Pierluigi Destri e l'albanese Fabian Vila parlano del sequestro e convocano una riunione per il pomeriggio che avrà luogo intorno alle 17 nell'abitazione di Destri in via del Corso. Qui si riuniscono alcuni componenti della banda, ma non tutti. Gli inquirenti sanno che si sta tenendo questa riunione perché osservano la casa e soprattutto la gente che vi entra, ma non possono sapere cosa venga detto all'interno dell'abitazione, dove le microspie non ci sono. Tuttavia, il 28 dicembre, gli investigatori riescono a intuire gli esiti della riunione avvenuta il pomeriggio precedente. Hanno conferma che la banda è preoccupata perché la lettera non è arrivata a destinazione. Infatti Pierluigi e Davide ne discutono nel furgone durante una lunga conversazione di circa tre ore. Nonna e nipote sono diretti a Genova pedinati dalla polizia e si affannano per stabilire come inviare un'altra lettera, magari tramite un fax. Bandone dice io non me ne intendo mica di queste cose, il fax sanno dove è tutto un casino ora, l'importante è che arriva. Pierluigi risponde gli arriva subito. Bandone ripete l'importante è che gli arriva, però mi potevo mettere anche la barba finta. Pierluigi con voce scherzosa ribatte. Ma figurati. Poi vengono captati altri dialoghi che da una parte sono drammatici perché chiariscono gli inquirenti il coinvolgimento di questi soggetti nel rapimento. Dall'altra parte risollevano anche perché confermano che Andrea è ancora vivo, anche se ora intendono spostarlo e fargli male. Pierluigi dice no, lo portiamo in auto, chiuso, va a finire che bisogna portarlo da un'altra parte. Bandone ribatte con certo. Destri precisa non si sa mai. Bandone poi esclama pezzo di merda, lo posso un po' gonfiare che c'è voglia di pestarlo, a staccare un dito che glielo voglio portare. A questo punto gli inquirenti capiscono che devono agire il prima possibile. Mentre ascoltano i dialoghi come detto il furgoncino sta percorrendo la strada che da Sarzana arriva a Genova dove i criminali devono individuare un esercizio commerciale per inviare la lettera, ma poi ci ripensano. Probabilmente perché hanno paura di essere immortalati da qualche telecamera, così tornano indietro. Si recano in un centro commerciale nella zona di Sarzana dove si verifica un'altra cosa di estrema importanza. Bandone preleva una pizza formato famiglia, poi nel risalire in macchina chiede a suo nonno ti piace a te la margherita? Poi senti come questa buonissima, metà gliela diamo a lui, metà ce la mangiamo noi. Dopodiché la macchina riparte per fermarsi nei pressi di una villa situata proprio in via del corso. Intanto la lettera in possesso dei carabinieri viene fatta analizzare dalla scientifica che rileva un'impronta digitale di Pierluigi Destri. Con quest'ultima prova i dubbi sul coinvolgimento di Destri e di bandoni sono definitivamente finiti. Gli inquirenti sono sulla pista giusta. Il furgoncino si ferma davanti a una villa che non è né quella di Destri né quella occupata dalla cittadina straniera a cui lui fa spesso visita. Si tratta di una villa in uso a Destri, abitualmente frequentata da sua moglie. La vettura staziona lì per tutta la notte. Quel dettaglio della pizza fa riflettere tanto le forze dell'ordine al punto che riascoltano quella frase centinaia di volte. In particolare Fausto Lamparelli e Vincenzo Nicolì, direttore della seconda divisione del servizio centrale operativo, si chiudono in una stanza e ascoltano le registrazioni ottenute in giornata. Fausto a un certo punto chiede a Vincenzo se entrerebbe nel covo di un latitante, cioè se in possesso di quelle intercettazioni farebbe il blitz. Vincenzo Nicolì risponde assolutamente sì. I due di comune accordo stabiliscono così di entrare nella villa e di prendere Andrea, visto che per la prima volta dall'inizio delle indagini sono sicuri di aver scoperto il nascondiglio dove è tenuto in ostaggio. Il 30 dicembre iniziano a organizzarsi ma sono ore di agitazione perché c'è sempre il timore che l'ostaggio possa essere spostato. Inoltre gli inquirenti sanno che non hanno concluso la fase di pianificazione, quindi si sentono sotto pressione. Mettono sul campo 300 agenti, è necessario coprire diverse zone di Sarzana. Concludono il lavoro entro la sera del 30, quindi il blitz viene fissato per il 31, ossia il giorno di Capodanno. Questo però non è un blitz come tutti gli altri, il ragazzo sequestrato deve tornare a casa vivo e fare eruzione in casa non è la strategia più opportuna. Così gli inquirenti decidono di rapire a loro volta tutti i soggetti presumibilmente coinvolti nel rapimento di Andrea. Portano via in varie caserme della polizia di stato e dell'arma dei carabinieri pressioni i loro familiari man mano che escono dalle rispettive abitazioni. Sottraggono a tutti i telefoni ma non spiegano a nessuno il motivo del loro intervento. Vengono prelevati Pierluigi Destri, Fabian Villan, Davide Bandoni e Simone Heilage. Le autorità sperano che Destri riveli qualcosa, vogliono la certezza che Andrea sia in quella villa e che venga garantita l'incolumità del ragazzo e dei membri delle forze dell'ordine, pronti a intervenire. Insomma devono evitare di trovarsi nel mezzo di uno scontro a fuoco. Pierluigi Destri però insiste nel sostenere che lui con Andrea Calevo non c'entra niente, poi si chiude in un mutismo assoluto. Purtroppo non è l'unico a mantenere il silenzio perché tutti i fermati fanno lo stesso. Di conseguenza ora che sono usciti allo scoperto gli inquirenti devono correre il rischio di entrare in quella villa e assumersi le loro responsabilità. Sono circa le 11 del 31 dicembre 2012. Una squadra scelta, formata da poliziotti e carabinieri di Roma, Genova e la Spezia, indossa i giubbotti antiproiettile in vista di un probabile scontro a fuoco, circonda la villa e fa irruzione. Una volta dentro gli agenti sentono dei rumori provenire dalla cantina e intuquiscono che Andrea si trova proprio lì sotto. Il ragazzo avvertendo i rumori a sua volta capisce che sta succedendo qualcosa e inizia a urlare sono qua, sono qua. In casa fortunatamente non c'è nessuno a parte lui. Gli inquirenti sfondano la porta della cantina e in un piccolo locale ricavato nell'interrato della villa trovano Andrea con una catena che gli blocca i piedi, ancora vestito come il giorno in cui è stato portato via due settimane prima. Questa storia, come avrete intuito, si conclude bene. Andrea viene liberato ma racconta di aver provato tanta, tanta paura. Era quasi sempre da solo ma sotto sorveglianza. A volte i carcerieri aprivano la porta per rivolgergli minacce e sottoporlo a pressioni psicologiche. Erano armati con il volto sempre coperto dal passamontagna. Gli avevano ordinato di espletare i suoi bisogni fisiologici liquidi in un secchio e quelli solidi in un sacchetto. Da mangiare gli fornivano soprattutto arance e mandarini. Destri al nipote gli avevano proposto di assumere tranquillanti, ma Andrea aveva sempre rifiutato. Dopo due settimane di prigionia Andrea torna finalmente a casa. Pier Luigi Destri non confessa, si definisce innocente e non proferisce mai parola su questo evento. Al processo Davide Bandoni, il braccio operativo della gang avvezzo all'uso di sostanze, viene condannato a 13 anni. Simone Heilage, Emiliano e Lorenc Schota a 11 anni e 8 mesi. Fabian Vila a 7 anni e 8 mesi. Pier Luigi Destri, considerato la mente di una banda di improvvisati, viene invece condannato a 30 anni. Altri due soggetti, Carlo Salvatore Antola e Anna Viti, la moglie di Destri, secondo l'accusa sarebbero stati a conoscenza dei fatti, ma non li avrebbero riferiti alla procura, mentre Giancarlo Ferrari avrebbe accompagnato Pier Luigi a fare la telefonata di richiesta di riscatto alla famiglia di Calevo. Carlo Salvatore Antola viene condannato a 4 anni, mentre Anna Viti e Giancarlo Ferrari vengono assolti. La donna in aula ha definito il marito come un tossico e un imbecille che rifiutava qualsiasi supporto. Dopo il sequestro Andrea sorride e torna prestissimo in azienda. Per lui è una giornata di festa, dice di volersi dedicare al lavoro e ai suoi dipendenti per dimenticare al più presto questa brutta avventura. Afferma di sentirsi un cittadino sicuro perché le forze dell'ordine, del suo paese, hanno dato dimostrazione di essere altamente preparate. Dopo la paura, desidera soltanto la sua ordinarietà. Le catene tagliate sono il simbolo del suo nuovo inizio. Ho finito di parlarvi di questo caso, ragazze e ragazze, anche perché stavi iniziando a diventare un po' pesantino parlare perennemente di persone che purtroppo sono venute a mancare, anche in circostanze abbastanza sgradevoli, brutte. Il video su Shelly Knotek diciamo che mi ha abbastanza prosciugato le energie. Quindi fatemi sapere se conoscevate questo caso, se è stato di vostro gradimento, scrivetemi quello che volete qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti.